ciao e benvenuti sul canale di guitar prof in questo video mi vedrete eseguire la solo di phil palmer relativo alla versione extended del brano con il nastro rosa di lucio battisti per uno studio più approfondito della solo vi consiglio di cliccare sul link in descrizione che vi riporterà al portale guitar prof direttamente all'articolo dedicato sul quale troverete la trascrizione completa su spartito e tab la back in track sulla quale esercitarvi e tanti altri dettagli per tutto il resto ci vediamo nei commenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti